E adesso che facciamo? Andiamo ad ascoltare la musica? Sì, la musica! From Windsor! Allora, Se mi lasci non vale è il titolo della canzone, non è una dichiarazione d'amore, ci mancherebbe altro. Infatti, Se mi lasci non vale è una canzone che è stata portata al successo dal grande Julio Iglesias, scritta da un grande romano, Rossi si chiama, che poi è sparito, dopo questa canzone è sparito. Se mi lasci non vale il trio di Windsor, Mario Mazzenga, dove sei? Eccomi, Vittorio, se mi è consentito, un piccolo saluto a tutti i telespettatori di Windsor. Mi salutiamo e ciao, a più pretto! Se un uomo tradisci, tradisci a metà, per cinque minuti non eri più qua, se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per trattare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Metti a posto ogni cosa, parliamone un po', io gli errori ne ho fatti, i colpe ne ho, ma quello che conta da dire e fare, saper andare via, ma saper ritornare, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non mi sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Grazie per la visione!